Pronti a partire con il Pedibus di Milano? Lo scuolabus a piedi per promuovere la mobilità pedonale del tragitto casa-scuola. Ecco cosa fare in dieci passi per aderire al progetto del Comune di Milano, realizzato da Abicittà e Lega Ambiente. Organizza un piccolo gruppo promotore locale. Bastano pochi genitori e alcuni insegnanti motivati. Chiama il numero Pedibus per ricevere informazioni e ottenere il questionario. Con l'aiuto del dirigente scolastico, distribuisci a scuola il questionario. Quando avrai almeno il 50% di questionari compilati, consegnali in segreteria e poi ad Abicittà o Lega Ambiente. Abicittà o Lega Ambiente si occuperanno di restituire i risultati del questionario e una mappa delle linee Pedibus possibili. Con loro, organizza un incontro per vedere insieme i risultati del questionario, immaginare la settimana tipo Pedibus, condividerne il regolamento e decidere una data per verificare sul campo con i vigili la sicurezza delle linee Pedibus in allestimento. Ottenuto il benestare dai vigili, verrà esposta a scuola la mappa delle linee per permettere le iscrizioni Pedibus e compilare una lista degli iscritti. E voilà! Siamo pronti per il primo giorno Pedibus, partendo sempre con il piede giusto. Andiamo a scuola tutti insieme! I facilitatori di Abicittà e Lega Ambiente sono sempre disponibili per fornire informazioni sull'uso consapevole del marciapiede e creare laboratori di aggiornamento. Per qualsiasi supporto, consulta il sito del Pedibus di Milano. Buone passeggiate! Buone passeggiate!